Siamo davanti al centro islamico di Vigevano, la comunità islamica cittadina ha voluto prendere posizione e con essa i parenti rispetto alla vicenda dell'uomo di 44 anni egiziano che potrebbe essere la vittima dell'incendio della sua auto avvenuto nelle campagne di Vigevano. La comunità chiede che vengano date delle risposte e si impegna, come fa normalmente, per aiutare la famiglia all'eventuale rimpatrio della Salma. Siamo presenti oggi qui avanti al centro islamico per lanciare un messaggio per quanto riguarda lo scomparso di Ibrahim Muhammad. È stato scomparso il giovane egiziano, 44 anni, da mercoledì l'11 gennaio. Da qui è stato trovato il suo auto, sabato il 14 gennaio, bruciata. All'interno dell'auto hanno trovato un cadavere. Non siamo certi che si tratta di lui, stiamo aspettando il risultato del DNA. Chiediamo la verità e la massima trasparenza. Abbiamo la fiducia della magistratura italiana. Abbiamo qua insieme l'amice parente, il suo zio e qualche suo cugino. Quindi chiediamo alla magistratura italiana che fa la massima collaborazione e aspettiamo la notizia. Grazie. Allora, buongiorno. Io sono l'amico di Muhammad Mansour. Anche qua c'è tutta la sua famiglia, c'è tutta la sua amica e sua famiglia. Noi non vogliamo niente, non vogliamo problemi, non vogliamo nulla. Solo vogliamo sapere qualsiasi notizia per i suoi parenti e l'importante sotto queste cose. Mettete qua quasi cento righe che è la sua mamma e aspetta la sua notizia. Anche voglio dire questa cosa che è lui l'unico figlio su quattro femmina. Vuol dire l'unico maschio a casa. Manca troppo a lui. Manca a noi anche perché lui è un bravo personale. C'è il cuore bianco, buono. Ber bene veramente. Manca troppo. Manca troppo. Grazie a tutti.